La mia famiglia era composta da me, mio fratello più piccolo di 5 anni, mio padre e mia madre, mio zio il fratello di mio padre e mia nonna paterna. Nella notte tra il 23 e il 24 aprile del 1915, a Costantinopoli, l'attuale Istanbul, l'impero ottomano, allora governato dal gruppo politico nazionalista chiamato i Giovani Turchi. Perché ci state facendo questo? Perché mi state facendo questo? In una sola notte fa arrestare e poi sparire. Più di 300 armeni che vivevano in Turchia, appartenenti alla classe dirigente. All'alba, 3000 armeni lasciano in convoglio il villaggio, un intero villaggio svuotato completamente in un giorno. Tra cui giornalisti, artisti, scrittori, avvocati, alti prelati e persino membri del Parlamento. È l'inizio del Mezzieger, il grande male. Il genocidio più dimenticato e contestato del Novecento. Genocidio è una parola moderna, sapete? Voglio dire leggenda. Composta da una parola greca che vuol dire popolo, razza. E una latina che vuol dire uccidere. Uccidere un popolo. Benvenuti al primo genocidio moderno. Perché mi state facendo tutto questo? Perché? 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 Grazie a tutti.